Sarebbe trovati con l'informazione del Tg Blu in apertura alla cronaca andiamo a Vieste dove ieri sera si è consumato l'ennesimo omicidio. Un uomo di 33 anni è stato ucciso a Fucilate, un omicidio che secondo gli inquirenti rientrerebbe nella lotta per il predominio della criminalità organizzata nel centro garganico. Le immagini e i dettagli in questo servizio. Rientrerebbe nella guerra tra la criminalità organizzata di Vieste l'omicidio di Vincenzo Vesce era il 33enne ucciso ieri sera nel centro garganico. La vittima era infatti ritenuta vicino a Raduano l'esponente di spicco che avrebbe preso l'eredi nel clan del defunto boss Angelo Notarangelo ucciso nel generale 2015 in un agguato di mafia. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri Vesce, dopo aver cenato a casa dei genitori, stava tornando a casa in via San Nicola di Nira nel centro di Vieste quando da un'automobile in corsa sarebbero stati sparati alcuni colpi di fucile. Due proiettili che hanno raggiunto Vesce al tronco, uccidendolo. Sul posto sono giunti i medici del 118 ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Nel corso delle prime indagini i militari dell'arma hanno sentito alcune persone e soprattutto avrebbero effettuato alcuni stub, le serme che serve per verificare la presenza di polvere da sparo su corpo e indumenti. Vincenzo Vesce, l'ha detto la beccaccia, era un personaggio noto alle forze dell'ordine, vicino a Notarangelo e Raduano, come detto. Il suo nome inoltre compare nel blitz denominato Pony Express con cui i carabinieri in luglio del 2014 arrestarono 12 persone accusate a vario titolo di spaccio di droga nel centro garganico. L'omicidio di ieri sera evidenza come con l'omicidio di Notarangelo e con Raduano in carcere ci sia un vuoto di potere che qualcuno cerca di riempire con il sangue dei rivali. Cambiamo argomento, parliamo adesso alla politica, in particolare al rinnovo del Consiglio Provinciale. Ieri ci sono state domenica, ci sono state le elezioni, ieri i primi risultati e da quello che ne esce un testa a testa tra PD e la lista Capitanata Civica. Noi abbiamo ascoltato alcuni dei protagonisti. Un testa a testa tra PD e la lista Capitanata Civica, questo è il risultato che va ad incoronare il nuovo Consiglio Provinciale, riconfermando la presenza di Rosario Cusmai di Capitanata Civica che ottiene quattro seggi così come il Partito Democratico. Il PD si conferma primo partito della provincia di Foggia, abbiamo ottenuto circa 30.000 voti ponderati, raggiungendo il 31% dei consensi, il 35% degli amministratori. È un risultato importante perché siamo stati nelle condizioni di presentare una compagine di amministratori capaci, in grado di sintonizzarsi con le questioni che vengono poste dal territorio e dai cittadini che vengono dal territorio. Il PD è molto presente anche perché quasi tutta la provincia di Foggia può contare su una buona rappresentanza nei comuni? Assolutamente sì, questa è la nostra forza. Siamo un partito capillare in grado di avere una presenza su tutto il territorio provinciale, un territorio provinciale molto esteso di circa 61 comuni e da questo punto di vista il risultato politico importante che abbiamo ottenuto deve avere l'obiettivo di far migliorare le condizioni di vita di questa terra e di essere un'istituzione di area vasta in grado di tenere assieme le situazioni che vengono dal governo nazionale, dal governo regionale e quindi raccordare tutte queste istanze. Il PD ho visto che ha fatto una conferenza stampa come si è soliti fare in presenza di occasioni molto più importanti. Io in maniera più semplice dico che stiamo lavorando assieme ad un progetto comune che è quello della presidenza della regione con Michele Emiliano assieme alle liste civiche. Sono felice che i nostri amministratori, più di 190, solo quelli che non si sono riferiti ad un partito ma alla nostra idea di programma provinciale abbiano dato grande riscontro. Bene i quattro eletti, dopodiché col PD si troverà un'intesa assolutamente per poter governare assieme un ente che nel futuro potrà avere un valore. Quindi penso che sia il momento adesso di essere responsabili, di non acuire tensioni inutili, lavorare perché no anche col centrodestra che ha eletto alcuni consiglieri di rilievo della città capoluogo. Insomma facciamo che la provincia non sia inutilmente un terreno di scontro e diamo il giusto peso alle cose anche perché sennò le persone non capiscono di cosa parliamo. Il nuovo consiglio provinciale, come è stato detto poc'anzi nel servizio, vede la riconferma di Rosario Cusmai di Capitanata Civica che è risultato quello più suffragato. Elezioni provinciali è andata molto più che bene? È andata oltre ogni ragionevole aspettativa, siamo felicissimi del risultato, del risultato che Capitanata Civica in provincia di Foggia ha ottenuto con circa 28 mila voti che ci hanno messo a un filo dal PD e al risultato personale che è l'attestazione di amicizia da parte di tanti amministratori della provincia di Foggia che hanno rivisto nella mia persona un punto di riferimento. Lei è vicepresidente, il PD chi è della vicepresidenza adesso? Io credo che il tema prioritario della provincia di Foggia oggi sia appunto quello di fare squadra per fare in modo che questi parlamentari che si sono mossi tanto per queste elezioni e che hanno votato la legge del Rio possano aiutarci a rivedere la del Rio per poter avere soldi e finanziamenti per occuparci dei nostri territori perché l'ente provincia così com'è senza economie, il tema secondo me non è la vicepresidenza e capire che cosa deve fare visto che con il referendum costituzionale che è stato bocciato perciò continuiamo ad avere la Costituzione, quale sarà il ruolo delle province in Italia? Noi chiederemo subito un tavolo come UPI nazionale e chiederemo un incontro al governo e mi auguro che i parlamentari della provincia di Foggia così come tutti i parlamentari d'Italia possano aiutarci a rivedere questa legge sbagliata proprio nelle fondamenta. E oggi inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Università di Foggia ospite d'onore Nicolo Ammaniti, uno degli scrittori più amati della letteratura contemporanea. Oggi l'Università di Foggia ha aperto le porte al nuovo anno accademico. L'inaugurazione dell'anno 2016-2017 si è tenuta questa mattina nell'Aula Magni in via Caggese. Tra le autorità civili, militari e religiose è la presenza di uno degli scrittori più amati della letteratura contemporanea, lo scrittore Nicolo Ammaniti, al quale l'Università di Foggia ha voluto conferire una laurea onoris causa in filologia, letteratura e storia. Ho passato tanti anni cercando di laurearmi da giovane, poi ho lasciato per farlo scrittore e dopo adesso, a 50 anni, ricevere una laurea è un momento di grande emozione. Poi è una laurea che ha più a che fare con il mio lavoro rispetto a quello che facevo prima perché ero biologo, quindi molta emozione. Particolare il legame tra Ammaniti e la Capitanata perché proprio le campagne down sono state l'ambientazione di uno dei testi di grande successo. Io non ho paura. È stata strana questo incontro con Foggia, è stata forse la più grande ispirazione che ha avuto quella di passare qui intorno e che mi ha, così poi ha prodotto forse il romanzo che ha avuto più successo, quindi felice di essere di nuovo da queste parti. Il mio dottore Ammaniti ha dato anche il suo punto di vista sullo stato attuale della letteratura nello scenario italiano. Il problema in generale è la lettura che non funziona, la gente legge meno, però nel complesso degli autori, gli autori italiani, mi sembra che negli ultimi anni sono tornati a interessare molto i lettori, quindi bene. E nel suo intervento il Rettore dell'Università di Foggia, Maurizio Ricci, ha ricordato l'importanza del Festival della Ricerca che ha ribadito anche ai nostri microfoni. Oggi c'è l'inaugurazione dell'anno accademico, è il primo giorno per avviarsi anche al Festival della Ricerca? Sì, è il primo passo. Oggi abbiamo l'inaugurazione anno accademico con il conferimento anche della laurea honoris causa a Niccolò Ammaniti che è lo scrittore italiano più venduto anche all'estero, i suoi libri sono tradotti in 50 paesi. Però e soprattutto vorrei sottolineare il primo passo verso il secondo Festival della Ricerca dell'Innovazione su cui noi puntiamo molto fortemente per affermare anche questo forte raccordo nella filiera scuola-università. Anche quest'anno, come lo scorso anno, noi cercheremo di raccogliere il più possibile dei finanziamenti da destinare per l'acquisto di superlettili, di materiale, specie per le scuole più periferiche. Noi dobbiamo lottare contro la dispersione scolastica, dobbiamo migliorare insieme ovviamente con tutte le istituzioni responsabili per evitare che ci possano essere fenomeni di emarginazione, dobbiamo lottare soprattutto in direzione di un forte appello per la legalità e per il rispetto delle leggi, questo è fondamentale proprio per una crescita civile, sociale e culturale del territorio e non mi riferisco soltanto evidentemente a Foggia. Ancora scuole chiuse questa mattina a Rocchetta Sant'Antonio Anzano di Puglia, naturalmente in provincia di Foggia per l'emergenza maltempo, una situazione che al momento sarebbe sotto controllo, i particolari disagi soprattutto a Rignano Garganico e a Monte Sant'Angelo dove il gelo ha rotto alcune condutture dell'acqua e parte della popolazione è senza acqua potabile e ieri proprio a Monte Sant'Angelo c'è stato un vertice con l'assessore regionale Raffaele Piemontese. Raddoppiare le squadre di intervento dell'acquedotto pugliese per ispezionare nel dettaglio eventuali ulteriori perdite e rotture nel centro abitato, completando la sostituzione dei contatori rotti, aggiungere una terza autobotte. E' questo il fronte su cui da oggi si concentreranno le azioni per fronteggiare l'emergenza acqua determinata dalle gelate che hanno interessato Monte Sant'Angelo. Ciò dopo che è stato individuato e riparato una grande falla, pertesi nel cosiddetto scarico della premente che alimenta l'abitato, una infrastruttura a 17 km che ha tratti di pendenza anche del 50%. E' quanto deciso nel corso di una riunione al comune di Monte Sant'Angelo, tra l'assessore regionale al bilancio Raffaele Piemontese, i commissari straordinari Andrea Cantadori e Alberto Monno e anche Nicola De Santis, presidente dell'acquedotto pugliese. E' stato proprio quest'ultima a ribadire la straordinarietà dell'emergenza, evidenziando le dimensioni degli interventi disposti. Per approvvigionare la parte alta della città si sta conducendo tanta acqua quanta se ne pompa durante i mesi di luglio e agosto, il doppio di quella normale nel mese di dicembre. Dall'inizio di un'emergenza a gelo, definita dagli stessi tecni di ACUP senza precedenti, a Monte Sant'Angelo sono stati svolti 380 interventi, un numero che si raggiunge normalmente in un solo anno. Interventi che hanno già concedito di prendere l'erogazione dell'acqua anche nelle zone alte della città allo Stato, limitatamente nelle ore notturne. Ma l'assessore piemontese e i commissari Cantadori e Monno hanno chiesto di ottenuto un ulteriore incremento delle squadre dell'acquedotto pugliese al servizio del centro abitato, anche in ragione del possibile nuovo abbassamento delle temperature. Una misura indispensabile, ha sottolineato piemontese, considerando che siamo al quarto giorno di emergenza. E sarà Antonio Russo delle Achi l'ospite di oggi dell'altra campana, il nostro spazio di approfondimento e interviste condotto e curato da Alessandra. Benvenuto all'appuntamento al termine di ogni edizione del nostro notiziario. Adesso parliamo di libri perché il questore di Foggia, Pier Nicola Silvis, ieri ha presentato il suo ultimo libro, un giallo ambientato proprio a Foggia. Mi chiamo Renzo Bruni e dirigo la seconda divisione dello SCO, il servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Fare il poliziotto è quello che volevo. Così inizia l'ultimo libro di Pier Nicola Silvis, il questore di Foggia, che per la quarta volta ha tolto la divisa di Poliziotto e indossato quella dello scrittore di Gialli e Thriller. Un giallo ambientato a Foggia dove si snoda la storia di un serial killer di bambini e appunto di un poliziotto. Tutta una fiction assoluta, un'invenzione della mia mente. Certamente i dialoghi e le situazioni sono realistiche perché sono quelle che viviamo noi poliziotti, carabinieri, magistrati, nelle indagini serrate ed è quello che volevo mettere in evidenza. Però la trama è assolutamente inventata. C'è questo serial killer che agisce a Foggia, lo SCO, il servizio centrale operativo, manda qui il suo migliore investigatore e comincia la caccia tra il gatto e il topo. Il serial killer che cerca di uccidere, il poliziotto e cerca di prenderlo. La suspense è tutta lì. A metà libro comincia a entrare in gioco un terzo concorrente, un terzo giocatore spietato che modificherà poi il corso delle cose. Quando c'è di Silvis in questo libro? I gusti, il modo di parlare forse, questo tipo di cose, ma ripeto, assolutamente di autobiografico nel libro non c'è nulla. Questo è il quarto libro, è più difficile fare il poliziotto o fare lo scrittore? Fare il poliziotto è il lavoro che amo moltissimo. Purtroppo avrà una fine, c'è una cosa che si chiama pensione, poi probabilmente resterà la passione per la scrittura dopo. Io amo molto il mio lavoro, amo molto vivere con i colleghi, con i ragazzi, col personale, è una cosa bellissima, per cui continuerò a farlo finché mi sarà possibile. Sarà presentata questa sera la 64esima edizione del Carnevale di Manfredonia in programma dal 19 febbraio al 5 marzo, fissata alle ore 19 la tipica serata condotta da Pinuccio al secolo Alessio Giannone, comico barese di successo della giornalista Marzia Campagna. Tutte le novità, protagonisti ed eventi imperdibili, su tutti la partecipazione, lo ricordiamo, di Simona Ventura e Gabri Ponte saranno presentate anche da Saverio Mazzone, amministratore unico dell'Agenzia per il Turismo che in anteprima questa sera ci svelerà tutti i segreti dell'edizione 2017 del Carnevale di Manfredonia. E adesso il calcio con la Serie D. Ha vinto il Manfredonia che ha fatto suo il derby tutto foggiano, delicato e molto importante con il San Severo previsto nella 19esima giornata della Ginoni H di Serie D ed ha vinto con merito l'undici bianco celeste di Mister Catalano che agguanta e risucchia in zona a rischio play-out i sanseveresi. Gli ospiti cominciano meglio dei padroni di casa ma al quarto d'ora sono già sotto per l'uno a zero firmato Coccia che raccoglie una respinta dell'estremo giallo granata romaniello sul tiro cross di Romito ed insacca dal limite. Il vantaggio carica il Manfredonia che prende in mano il match, cerca e trova il raddoppio che giunge al trentottesimo, affirma la porta che si guadagna e realizza un calcio di rigore. Il sansevero punto nell'orgoglio, prova a rieprire la partita senza riuscirvi rischiando nel finale addirittura di capitolare ancora. Enesimo cappò della Pricena che cade pesantemente in casa 3-0 con il forte Biceglie. Per il tecnico Alessandro Potenza si tratta della seconda pesante sconfitta consecutiva dopo quella incassata al suo esordio domenica scorsa a nocere inferiore. Prossimo turno ancora in casa per il Madrepietra contro il più abbordabile Rionero mentre Manfredonia e Sansevero andranno entrambi in trasferta nell'ordine ad Ercolano e Potenza. Bene, è tutto per questa edizione. Vi ricordo subito dopo la siga l'appuntamento con l'altra campana e vi ricordo che le altre notizie ai nostri servizi li potrete seguire sul nostro sito teleblu.tv oppure sulla nostra pagina di Youtube Teleblu Foggia. Davvero tutto per questa edizione, grazie di averci seguito. Arrivederci a tutti voi.